POSSO SAPERE CHE STA SUCCEDENDO QUI Toccherà a Bistecca. Devi assolutamente fermarli. Fermarli? Come? Salvare il Natale. Facciamo fuori questi brutti cecchi. The Asylum presenta... Sono bloccato. Papà! Quella è la mia ruota! Non immaginate quante frecce ho ancora al mio arco. Siamo troppo veloci per voi! Questo cane è furbo. Cugino, va tutto bene? Puoi contare su di me?